buongiorno buon lunedì e benvenuti al nostro podcast settimanale e oggi l'ho voluto chiamare il martirio della tradizione e perché voglio ricordare padre Enrico Zoffoli allora devo fare un po di storia di questa cosa allora intorno al 1994 credo io mi avevano parlato di un padre passionista che era un importante teologo e pensatore filosofo e che stava alla scala santa e questo padre si chiamava padre Enrico Zoffoli allora io gli telefonai mi sembra presi appuntamento e andai a incontrarlo con la mia fidanzata di allora e ricordo che fui molto colpito da questo sacerdote che già era abbastanza avanti con l'età perché in quel tempo aveva tipo 78 anni una cosa del genere 77 78 anni rimasi colpito perché era una persona veramente semplice proprio sembrava un bambino ma un bambino nel senso bello del termine proprio nel termine evangelico se non sarete come bambini e non entrerete nel regno dei cieli ecco e padre Zoffoli era proprio così era una persona anziana ma aveva quella quel bel tratto di semplicità infantile devo dire che è una cosa che purtroppo non tutti e abbiamo ma che sarebbe bello avere cioè quella quell'essere non pieni di se stessi no e lui ne avrebbe avuto motivi perché insomma era membro della pontificia accademia di sant'ommaso d'aquino autore a quel tempo già di 50 60 volumi tra filosofia teologia apologetica l'autore tra l'altro della biografia più importante di san paolo della croce cioè il fondatore della sua congregazione passionista una biografia in tre volumi enormi con migliaia e migliaia di pagine che fu lottata da tutti al tempo in cui uscì già dagli anni 60 e io ho potuto leggere le lettere che arrivarono ai passionisti in lode di questa biografia veramente monumentale lettere di grandi teologi di cardinali di vescovi di responsabili di altre congregazioni insomma veramente una persona che avrebbe potuto vantarsi se voleva eppure rimaneva sempre così semplice io fui veramente colpito da quello da come ci accolse e ci invitò a far parte del suo gruppo di sant'ommaso d'aquino lui ogni giovedì pomeriggio faceva delle lezioni alla scala santa in una sala appena entrati al piano terra faceva delle lezioni appunto sulla 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 sul pensiero tomistico e lezioni che erano aperte a tutti ma erano specialmente per i laici ecco quindi io ricordo che ho frequentato per parecchio tempo queste sue lezioni e parecchio tempo considerando diciamo il tempo che poi lui continuò ad affarle perché poi a un certo punto purtroppo lui si ammalò e ebbe un ictus andò all'ospedale poco dopo morì io lo visitai anche nel suo tempo di ospedale di infermità quindi mi ricordo anche gli ultimi momenti di padre zoffoli però volevo prendere un altro discorso che riguarda il diciamo l'argomento per cui padre zoffoli è famoso che è i suoi libri sul cammino neocatugomenale allora sicuramente questi libri sono quelli che ancora oggi quando si nomina padre zoffoli insomma vengono fuori no però in realtà è per me è profondamente sbagliato ridurre padre zoffoli a questi libri lui mi pare che pubblicò riguardo al cammino neocatugomenale 4 o 5 libri se non sbaglio eresie del movimento neocatugomenale poi la catechesi di chico a con quella del papa poi le testimonianze c'era qualche altra cosa comunque sono 4 5 studi su questo tema su cui comunque si è molto prodigato questo non è dubbio però in realtà prima cosa questi studi sul movimento neocatugomenale io lo ricordo perché me lo diceva proprio lui non erano contro il movimento neocatugomenale ma era per cercare di far mettere in luce alcuni errori che lui vedeva e poi non solo lui perché molti altri pensatori e filosofi e teologi si sono dedicati a questo argomento lui ha messo in luce degli errori non per denigrare l'esperienza anzi lui diceva che insomma pensava che questa esperienza probabilmente faceva bene a qualcuno però ovviamente sviava le persone se non venivano eliminati certi 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 fraintendimenti che c'erano della dottrina cattolica quindi non era qualcosa per distruggere ma era qualcosa per costruire qualcosa di ancora più solido ma togliendo questo discorso del movimento neocatugomenale devo dire che e questi sono cinque libri ma lui ne ha scritti forse 70 80 e compresi dei trattati veramente importanti di teologia di filosofia e altri testi di apologetica io penso per esempio al bellissimo libro che lui ha scritto su santa teresa di lisier un libro lui tra l'altro era molto vicino a santa teresa perché aveva conosciuto la sorella selin che gli aveva detto che doveva considerarsi un fratello spirituale di santa teresa pensiamo ho già detto della biografia di san paolo della croce ma pensiamo anche a quella di santa gemma galgani cioè è stato una persona che veramente ha prodotto tantissimo al di là del discorso dei neocatugomenali ma che ha pagato purtroppo proprio per il suo attaccamento alla tradizione anche se credo che a lui non facesse piacere di essere definito tradizionalista questo termine di cui abbiamo già parlato e che è un po equivoco a volte tradizionalista può voler dire tante cose ma certamente era una persona profondamente attaccata alla tradizione cattolica e molti suoi libri di denuncia sulle derive non solo del movimento neocatugomenale ma anche della teologia della chiesa del suo tempo erano per amore della chiesa certamente non per distruggerla o per tirarla giù ma proprio per questo suo attaccamento alla tradizione lui ha pagato tantissimo sia all'interno della sua stessa congregazione sia anche dei rapporti con le gerarchie ecclesiastiche perché non ricordiamo che non scordiamo che ci fu un tempo in cui lui fu messo a tacere proprio perché si era ribellato possiamo dire contro certe derive che a suo parere tradivano il carisma originario del suo ordine e tradivano soprattutto quella che era la tradizione della chiesa quindi eh padre Zofoli ripeto pur non essendo un definibile un tradizionalista io ricordo che lui celebrava la messa rinnovata ma ricordo di aver assistito alla sua messa in occasione di un pellegrinaggio che facevo insieme non ricordo dove va fuori Roma e ricordo veramente la sua scrupolosità nel rispettare quello che erano i dettami della liturgia eh liturgia a cui lui dedicherà anche importanti eh libri e questa è la messa e non altro ricordo proprio quando stava scrivendo questa è la messa e non altro eh non altro eh lui mi chiese un un aiuto per quanto riguardava del materiale sulla 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 musica sacra io gli chiedi dei libri che lui eh in parte uditizzò per questo testo ma ci sono anche altri testi che lui ha scritto eh sull'equalistia veramente importanti per esempio quelli contro la comunione sulla sulla mano insomma eh padre Zofoli veramente eh ha dimostrato come eh anche diciamo nel campo non strettamente ehm cattolico tradizionalista che noi definiamo come appunto eh come coloro che ehm che seguono la 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 messa ehm la messa tradizionale eh però anche nel campo di coloro che comunque hanno eh accettato eh il le riforme del concilio almeno eh quello che veramente il concilio diceva cioè è stata anche una grande sofferenza per amore della tradizione quindi se voi immaginate quanto queste eh persone che comunque hanno cercato di seguire la chiesa anche nel cammino delle riforme postconciliari hanno sofferto potrete anche immaginare quanto più eh hanno sofferto gli altri che invece eh hanno messo in guardia da dal da da certe derive come del resto aveva fatto anche padre Zofoli non che padre Zofoli eh diciamo eh fosse un entusiasta di tutto quello che veniva negli anni del dopo concilio anzi come ho detto lui aveva messo bene in guardia dal dai pericoli e dalle riforme eh le dalle interpretazioni errate delle riforme ehm provenienti dal dal Vaticano secondo. Allora io eh lo voglio ricordare perché eh era veramente una persona eh eh buonissima e umilissima veramente come mi diceva Monsignor Livi eh in uno degli ultimi incontri che ho avuto con lui lui mi diceva che lui desiderava eh introdurre la causa di di beatificazione di padre Zofoli perché sicuramente è uno di quelli che l'avrebbe meritato eh ci sono state molte canonizzazioni rapide no come io ho già scritto altre volte e per carità persone degnissime però insomma eh si è saltato forse eh insomma così non dico che siano saltati i passaggi ma si è voluto affrettare molto certe canonizzazioni e mentre persone come padre Zofoli che però è ovvio che non verrà mai canonizzato specialmente nella chiesa di oggi perché lui un po' eh rappresenta tutto quello che la chiesa di oggi vuole dimenticare quindi io eh lo ricordo veramente caramente e spero che eh questo mio podcast possa incuriosire anche voi ehm voglio ehm eh ricordarvi che eh c'è un libro di padre Zofoli che io eh due libri in realtà che ho ripubblicato eh ma l'ultimo è molto interessante perché eh parla della della concelebrazione quindi io vi metterò il link nell'articolo lo potete andare a vedere e ci sono in quel libro anche che io ho ripubblicato c'è una mia introduzione e ci sono due saggi di eh Monsignor Bux e di eh del vesco eh Atanasio Schneider quindi è è un libro che vivamente vi consiglio. Intanto vi ringrazio per l'ascolto eh di questo podcast e vi do appuntamento al prossimo lunedì per un altro podcast. Buona giornata.